Lo sempre speravo, come loro sanno, come il direttore ha detto, noi è tanto che parliamo di questa opportunità. Quindi la volontà di entrambi c'è sempre stata, anzi ringrazio il Presidente e il direttore per questa opportunità, però è sempre stato il mio sogno ed ero sicuro che sarei venuto qui. Riguardo alla mia famiglia, loro mi hanno sempre supportato in tutto e per tutto, quindi sono stati felicissimi come me. No, sto bene, sto molto molto meglio, ancora manca qualcosina, però sto molto meglio rispetto a prima. Riguardo a Pioli, Sarri è un gioco più tattico, Pioli magari era differente, era più uno contro uno con ampie zone di campo, qui invece è un gioco che secondo me è più adatto a me e che più piace a me. Sì, è stato emozionante, comunque ricevere un'accoglienza così è stato molto molto bello. Loro sono sempre qui a supportare la squadra, quindi adesso toccherà a noi, toccherà a me ricambiare tutto questo affetto. Grazie. Grazie. Grazie.